Sono Elisabetta Donati e rappresento la sesta generazione dell'azienda agricola Marco Donati, con sede in Trentino a Mezzocorona. Qui, da più di 150 anni, coltiviamo i vigneti di Teroldovo e di Lagrain. La mia famiglia, infatti, ha iniziato questa avventura nel lontano 1863 e si è tramandata poi di padre e figlio fino ad arrivare ad oggi a noi. Oggi la nostra azienda è composta da mio padre Marco, enologo e agronomo, affiancato da mia madre Emanuela, che ormai da tanti anni prosegue con lui questa tradizione. Vinifichiamo solamente uve di nostra coltivazione, che coltiviamo in diversi punti del Trentino. Abbiamo infatti fatto in questi anni un lavoro di attenta ricerca e di zonazione per coltivare ogni tipologia nella zona più adatta e più vocata. Particolare attenzione ai vitigni autoctoni, quindi non solo il Teroldovo e il Lagrain, ma anche la nosiola, il Mungerturgao e il Gewurzer Miner. Ma non solo questi sono i nostri prodotti, vi invitiamo quindi a leggerli anche recensiti dalla guida Slow Wine e soprattutto a degustarli e ad assaggiarli. Un brindisi con il nostro Teroldovo, prodotto proprio qui in Piana Rotaliana, dove adesso vedete delle viti molto storiche, centenarie, perché le più vecchie sono proprio da 1921, coltivate qui ai piedi del castello di San Gottardo sul monte di Mezzocorona. Un brindisi a tutti gli amici di Slow Wine!